Bentornati carissimi amici, siamo di nuovo qui, chi siamo? Sara e Alessandro, perfetto, o papà Ale, chiamatemi come volete, alziamo un pochettino perché giustamente ci hanno detto che tagliavamo un po', un attimo, come sempre e ci siamo, come sempre, facciamo un po' di sbagli, e infatti oggi, cioè ieri sera avevamo detto di averne avuto uno di quelli che si illuminano al bimbo ma in realtà ne abbiamo altri tre, esatto, ce ne siamo accorti solo dopo perché questa si illuminano alla maglietta, lui la maglietta e il casco, lui tutto quanto e lui superestra il primo, come vi abbiamo fatto vedere allora, questa oggi, il distributore, lo usiamo per metterci le bustine aperte dopo che le abbiamo aperte, oggi ne apriamo 14, sperando sempre di trovare uno dorato complimenti a tutti quelli che l'hanno trovato comunque, siamo felici per voi questo? ce l'abbiamo? no vediamo, 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 no, non ce l'abbiamo lo mettiamo qui, vi diciamo anche che è Luke Skywalker questo è vuoto? come vuoto? apri la prossima è vuoto ma non può essere vuota una bustina? chi non è cercato vuota? no ragazzi, giuriamo abbiamo trovato una bustina vuota è un doppio no, ho capito, ma non va bene una bustina vuota non ce ne siamo accorti è terribile questo vabbè, buttiamole qui dentro le bustine vuote è vero, se no all'apri di sera ce la lassevamo cambiare vabbè, succede ragazzi, succede andiamo avanti apriamo la prossima abbiamo trovato uno che ci manca a questo punto ce ne mancano due tre, quattro, cinque, sei per completare un altro doppio un altro doppio i doppi mettiamoli tutti qua vicino proprio di Luke Skywalker che avevamo appena appena trovato questo non è un doppio? come non è un doppio? ah sì è un doppio è un doppio eh sì, ce l'abbiamo doppio anche questo io lo chiamerei ciao la mamma chiede se quello era Luke sì, perché siamo andati avanti nel tempo ed è invecchiato Luke è il papà adesso della protagonista non è molto aggiornata su Star Wars ma noi facciamo finta che va bene lo stesso che cosa abbiamo trovato adesso? un nuovo un nuovo? sembra uguale all'altro no, è vero questo ci manca è un cattivo e vi diciamo anche come si chiama è la guardia pretoriana e a questo punto ce ne mancano solamente 6 ho sbagliato il conto più doppio ancora doppio io non so come farci con questi due eeeh come facciamo come facciamo guarda ho sbagliato lo sarei buttato via quello lo recuperiamo cos'era? fa vedere ah però non è non si lumina al buio è uno di quelli che potrebbe luminarsi al buio e se è lunga vi ricordo punti fida di 50 punti o 25 euro di spesa un Rollins uno lo apro io dai fammelo prima me no dai uno uno no me ne uno uno sono lo faccio vedere io doppio però brilla no si no si no hai ragione tu ho sbagliato non brilla andiamo avanti ne mancano solo 4 la finiremo mai questa collezione senza scambiare? un altro doppio è terribile i vari doppi terribile stiamo facendo la collezione voglio uno dorato questo ci manca oh e questo qui è spettacolo questo è proprio bello questo mi piace tantissimo capitano signora Barbara c'era un quanto? ma che bello forse uno che si illumina il buio? si la mamma ce l'ha portato via uno questo ce l'abbiamo già e l'ultimo speriamo che non sia uno ma no l'abbiamo già cambiato era questo che non brillava doppio doppio anche questo va bene allora ce ne mancano due quattro cinque no aspetta li conto io uno due tre quattro cinque ce ne mancano solo cinque quindi io penso che per la prossima recensione ce la facciamo a chiudere questa serie se non avete vista quella dei Wizys di Harry Potter potete trovare sul canale anche quella non mancheremo di portarvi di farvi vedere anche tutti gli eventuali regali di Natale belli anche di altre persone che conosciamo noi vi salutiamo vi diamo appuntamento ad un prossimo video speriamo vi sia piaciuto questa è la mamma che spinge le cose per dare un'immagine finale un pochettino più importante saluta un saluto da Ale Sara e la mamma se ne va va bene ci vediamo alla prossima registrazione va bene ciao a tutti ciao ciao ciao